Non so se per stasera alle ore 18 sarò ancora a piede libero, comunque rinnovo il mio invito per la diretta Facebook e la conferenza stampa che farò all'entrata principale dell'hotspot di Messina in contrada Bisconte. Stanotte abbiamo tentato di recuperare questa ventina di migranti che sono fuggiti, purtroppo non ci siamo riusciti, ovviamente già gli ordini dall'alto sono partiti per non farmi entrare in questa ex caserma, vedremo come andrà a finire. Stasera alle ore 18 cercheremo anche di confrontarci con la ministra Lamorgese e con il presidente del Consiglio Conte. A stasera.